Cosa ti colpisce di questo sondaggio e sei così positivo e ottimista come Laura Castelli sulla sua lista Libertà? Per quanto riguarda il sondaggio mi stupisce poco, perché sono i numeri che conoscevamo. La Meloni avrà, credo, un ottimo risultato. Non è vero sino in fondo quello che ha detto Bocchino, perché nelle ultime elezioni europee, sia 2014 che 2019, in realtà furono premiati i partiti che erano al governo, perché il PD era al governo e Stravince Renzi. Poi crollarono. Salvini era al governo e Stravince Salvini, quindi... Sì, sì, certo, ma può darsi che capiti anche alla Meloni, ma visto che hai fatto la foto agli europei, diciamo che non è così strano che vinca. E che i fuochi di Paglia poi sono pericolosi. Sì, aspetta. Sì, vabbè, però era solo per dire che comunque è innegabile che il risultato sarebbe ottimo. Secondo me era il 30%, e non è così impossibile. Devo dire deludente il risultato della Lega, perché... Allora, adesso abbiamo un problema di audio. Aspetta, Andrea, è tornato il tuo audio. Vai, deludente il risultato della Lega? Dicevo, deludente il risultato della Lega, deludente secondo me anche il Movimento 5 Stelle, che non ha mai fatto grandi cose alle elezioni europee. Io sono molto curioso di capire se supereranno il 4% figure come Renzi o Calendo frato gli anni. A proposito di chi sta tra il 3, il 4 e il 5 o il 2, ma sai, la lista, il caravanzerraglio rappresentato da Laura Castelli, che mi ricordo essere stata Grande 5 Stelle, poi Di Maiana, poi Draghiana, adesso Cateno De Lucchiana, io l'ho visto il manifesto. Basta guardare il simbolo della libertà di Cateno De Luca e Laura Castelli. Ci sono dentro i 19 simboli. Sembra il bar di Guerre Stellari. Questa, guarda, mi piace, si chiama democrazia, ed è la democrazia di chi non vuole rimanere da solo all'angolo quando una politica non vuole vedere certi mondi. Castelli, 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 la democrazia anche per far parlare gli altri. Ho parlato due minuti e adesso parlo io. Lasciamo finire Scanzi che è collegato? La democrazia anche per far parlare gli altri, Castelli. Sai bene che non la stimavo né come rappresentante di 5 Stelle, neanche adesso, quindi non è una grande novità. Di questo me ne farò una ragione. Eh beh, ma si figuri io, ma di cosa stiamo parlando? La libertà, l'avete visto i simboli che sono lì dentro? Cioè ci sono gli agricoltori, i pensionati, gli ambulanti, il popolo veneto, c'è Di Nolfi, c'è Italia Exit. No, facciamo finire, poi avrà il diritto di rettica. Castelli, Castelli, stia tranquilla perché tanto lei il 4% non lo vede neanche col binocolo, quindi si rilassa e continuerà ad essere una parvenuta della politica. Tu mi hai chiesto, Lilli, se io sono ottimista o meno, sono molto ottimista, quindi sono sicuro che Laura Castelli non sarà un europarlamentare, quindi sarà una delle poche notizie positive delle prossime elezioni. Il tema non è la Laura Castelli, io oggi sono una mamma di un bambino di due anni, faccio il mio lavoro e faccio la consulente, questa è una lista che si chiama Libertà e che è dentro a mondi importanti che io pretendo che non vengano in nessun modo infangati. Calenda e Renzi hanno dentro il suo simbolo un numero 9-6 di altri simboli. Non ho nessuna stima dei complottisti Novax, non ho nessuna stima dei complottisti Novax o dell'oscurantismo di Adinolfi. La Lega che si è stufata di Salvini, ecco, sono mondi veri. Scanzi, forse intendeva dire che siete un po' eterogenei. Siamo gli unici che hanno fatto insieme un programma di 20 punti, consapevoli che in mezzo al tavolo, e io potrei parlare di esperienze di governo che hanno dimostrato che si può fare, in mezzo al tavolo metti 20 punti che ti accomunano perché c'è un sistema che ti vorrebbe divisi e invece quelli sono temi importanti e allora tu ti metti d'accordo su 20 punti e li porti avanti. Quello che non ti accomuna lo lasci fuori. E' semplice Massimo Giannini, adesso vediamo perché credo che sia molto complicato. Non sono d'accordo. Però, stando sempre diciamo alle elezioni europee, oggi Ursula von der Leyen ha attaccato Marine Le Pen e anche l'Alternative für Deutschland, i neo-nazi tedeschi, e ha detto che vogliono distruggere...